Miss Simone, dovete sapere che hanno fatto un bellissimo programma sul Massimo Prolitti che raccontava la storia di Dottor Raimondo e Salvatore Miss Simone fu chiamato da uno degli autori a dire senti sappiamo che tu hai conosciuto Massimo Prolitti, sì è vero ho conosciuto Massimo Prolitti, ero mio amico e lui raccontò questa cosa a uno degli autori prima di andare in onda e se allora ci racconti come hai conosciuto Prolitti prima di andare in onda era a Napoli agli Aischiati e stavo andando a Ischia sono entrato e poco più in là, dall'altra parte, però sulla stessa pia linea c'era Massimo Prolitti, lui si è girato, mi ha guardato, io l'ho guardato e poi siamo arrivati a Ischia che cazzo che racconta e lui si meravigliava, ma perché non è lui chiamato nel programma? grazie